Musica Una foglia di piccola mettono lì una brava persona, una stimata persona e dietro si riparlano tutti i vecchi, cialtroni della vecchia politica Grazie, grazie di esistere, grazie che finalmente io ho scoperto che Teramo esiste perché al nostro, nessuno viene a Teramo, io non ho mai sentito dire che devo andare a Teramo e meno male, è la vostra forza, è difficile arrivare ma qui avete delle cose strafittose, avete un osservatorio astronomico avete, avete, ha dato Natali come a, come a pannella, gente con le palle quindi, signor Pinto Musica 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 Io ho visto Santoro andare, andare ospite di una trasmissione di Berlusconi che sono lì Musica 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 E' gestito da un amministratore delegato che compra i derivati in borsa che in debita i tuoi chitadini che fa chiudere che è sempre 18 giorni ieri infatti Campola se ne ha guardo quando la regina ha saputo che siamo 18, insomma che siamo intervenuti voi noi siamo e dobbiamo assolutamente intervenire tutti sulla sopravvivenza della vita, su chi riesce a malapena sopravvivere, fare una comunità questo è un lavoro, il lavoro che uno deve accettare qualsiasi lavoro ma che cosa è il lavoro? il lavoro è andare a fare il minatore nel minore di spulci in Sardegna a 1200 euro al mese? il lavoro è che un figlio che ha laureato che la famiglia si è fatta un culo così con un master ad arma deve andare in un consente da 400 euro al mese? non è che il lavoro non è che il lavoro non è che il rischiare qualcosa intanto non abbiamo più niente da perdere grazie a tutti possiamo fare un sciolto nel buio con loro o un suicidio assistito con questi che ci hanno devastato la vita grazie a tutti